120 gli agenti impegnati, 12 le persone arrestate per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Quattro sono vicentini, gli altri di origine calabrese, ma residenti da anni nella provincia berica. È una giornata importantissima per la questura di Vicenza e per Vicenza. Abbiamo fatto un'operazione che ha visto coinvolti la squadra mobile di Vicenza, la squadra mobile di Venezia sotto la direzione del servizio centrale operativo. E' un'ulteriore conferma, come se non bastasse, dell'attenzione che il capo della polizia rivolge al territorio, al Veneto e al territorio vicentino. La cocaina partiva dal Peruso Navi Container, diretta a Schio, Alto Vicentino. Il 26 gennaio 2017, il sequestro di mezza tonnellata di droga nel porto di Fiume faceva scattare l'arresto dell'imprenditore scledense Luigi Carollo, destinatario della macchina utensile, al cui interno erano saldati 476 kg di cocaina, valore sul mercato, 20 milioni. Da lì sono partite le indagini che hanno coinvolto diverse polizie europee e che hanno portato ai 12 arresti di oggi. Per il servizio centrale operativo che ha diretto e coordinato le operazioni, si tratta di una indagine strategica. E' un'indagine strategica perché riuscire a controllare un traffico internazionale di sostanze stupefacenti proveniente dal Sud America, in tal modo significa che abbiamo a che fare con personaggi seri. Sequestrati i beni per 250 mila euro, uno degli arresti è stato effettuato a Trento e uno ad Africo, Reggio Calabria.